Amici di milan.soccer, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento dedicato al Milan, dedicato all'informazione rosso-nera. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo un piccolo grande gesto per noi, l'iscrizione al canale e il like a questo video. Inoltre, in descrizione un po' più in basso potete trovare sia l'opportunità, ci siamo, devo dire che ci siamo, il progetto sperimentale di milan.soccer, il nostro nuovo canale, sotto, dicevo, il link per potersi iscrivere gratuitamente. Ci siamo perché il progetto da sperimentale diventerà definitivo quando arriveremo a un congru numero di iscritti e mi sembra che l'interesse ci sia. Fatemelo sapere tra i commenti se vi va, insomma, che questo canale prenda vita e che dunque il nostro lavoro preveda anche la possibilità di seguire tutta la serie C, girone B, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, 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 ah, grazie anche per chi va a guardare sempre in descrizione il sito per dei nostri amici di Monaco di Baviera, dei veri milanisti, per scaricare musica copyright free. Allora, quando Morata è entrato nell'orbita del calciomercato Milan e quindi si è acceso il faro del calciomercato Milan, che cosa è successo? Ma si è infortunato. Adesso sta cosa mi terrorizza. Non so se avete visto quello che è accaduto dopo la partita dell'altra sera. È accaduto che uno steward che tentava di fermare una pacifica invasione di campo, ormai vanno di moda questi selfie rubati in mezzo al campo, beh è scivolato e ha preso in pieno Morata che è uscito zoppicando. È una cosa incredibile. Quindi abbiamo anche il primo infortunato della stagione, anche se non è Morata del Milan, vabbè era una battuta, ci mancherebbe altro. Però direi che in effetti tra le tante cose da vedere, da guardare, da attenzionare, bisogna diminuire, caro mister Fonseca, per gli amici Fonsi, per gli amici Fonsi. Quindi noi quest'anno lo chiameremo, ehi, chi è che si ricorda Fonsi? Ehi, per gli amici Fonsi, dicevo, bisogna attenzionare la questione relativa agli infortuni. Il Milan cerca l'accordo con Fofanà, pronti 20 milioni di euro per il Monaco. Grande colpo a 20 milioni di euro. Il Milan, e lo sappiamo, ormai da troppo tempo alla ricerca di un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa. È vero, il centrocampo è stato una delle cause. Ora arriviamo alla difesa e all'attacco di Fonsi rispetto al lavoro di Pioli. Il Milan è alla ricerca di un centrocampista fisico. Dicevamo, lo sappiamo, che possa essere diga davanti alla difesa. Il Milan ce l'aveva, questi giocatori. Prima Tonali, poi prima ancora Benasser, per carità, sempre recupera palloni più che fisico. Il Milan dunque sta cercando di definire questo accordo con il giocatore e di chiudere con il Monaco per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Beh, io adesso al di là della battuta, i 20 milioni di euro tratteremo ancora 4-5 mesi prima di andarlo a prendere a 19 milioni. Spero che si chiuda almeno il primo colpo della stagione, quando le persone mi fermano mi chiedono ma che abbiamo comprato fino ad ora? Beh, abbiamo comprato qualcuno nel Milan Under 23. Anzi, andate a vedere il servizio relativo a Samuele Longo. Se andate su milanfuturo.soccer vi parlo del calciomercato del Milan Under 23 e dell'acquisto di questo giocatore. Ma dicevo, la questione, tanti gol presi l'anno scorso, ma la questione non è solo legata alla difesa, quanto piuttosto anche al centrocampo. E allora tra le sensazioni trasmesse dal primo giorno di Fonzi, Paolo Fonseca, sono, diciamo così, delle parole che a me personalmente, al di là di tutte le polemiche che si sono create, mi hanno, tra virgolette, convinto. Cioè, dal punto di vista dell'esposizione è sicuramente più convincente di Stefano Pioli, su questo non c'è dubbio. Dal punto di vista dell'impostazione, come vorrebbe, uso il condizionale, far giocare il Milan, a me personalmente mi convince, che poi mi convinca sul campo, ho dato la mia idea di attesa, cinque partite ufficiali, che sono derby compreso. Però come ha intenzione di far giocare il Milan, insomma, mi incuriosisce, tra l'altro per chi vuole su questo canale seguiremo insieme anche le prime amichevole, quelle di luglio. Si è comunque presentato facendo del lavoro e concentrandosi sulla fase difensiva. Si parte inevitabilmente dalla fase difensiva. Anche Fonzi sottolinea che la priorità è sì l'attaccante, però la prima parte del lavoro su cui intende concentrarsi è proprio quella della difesa. L'allenatore si è detto soddisfatto per la possibilità di avere tutti i difensori a disposizione, ora avrà a disposizione anche Mignan e Teo Hernandez e vuole iniziare dalla fase di non possesso palla e da una difesa che la scorsa stagione è stata il punto debole, debolissimo della squadra. Una galleria degli errori e spesso degli orrori interminabile che ha spalancato la porta permettendo agli avversari gol semplice senza alcun antitodo. Fonseca ha spiegato di non riscontrare problemi di qualità nei singoli giocatori. Abbiamo buoni difensori, e queste sono parole divine per Gerry Cardinali. Abbiamo già i giocatori, non vedo un problema individuale, bisogna migliorare collettivamente. Fra le sue attività dunque quella di riportare i giocatori ad un livello di attenzione elevato e una programmazione che possa essere in tutto e per tutto una programmazione efficace. Ora dire che non sono il problema i giocatori ma come hanno giocato Savasandir che è un attacco, una critica diciamola così a Pioli. Noi non è che siamo esperti di calcio, noi siamo amanti del Milan, però non è che ci volesse molto a guardare i limiti della squadra che era stata posta in essere da Pioli. E allora mi convince quanto detto dal mister Fonseca, per cui sono contento di sentirgli dire queste parole. Bisognerà capire se non sono parole tra virgolette dettate dal fatto che non ci sia e non ci sarà un mercato così particolare, vincente. Cioè aspettarsi, ormai sono andati, ma aspettarsi un Calafiori o un Buongiorno non è l'idea del Milan attuale. Cioè il Milan attuale cerca di organizzare una squadra anche attraverso innesti che non siano, usiamo il termine top player per intenderci, però che non siano quelli che facciano spendere poi a Gerry Cardinale tutti questi milioni. Nella fase offensiva, diciamo la fase offensiva parte da una buona difesa. Vuole difendere 20 metri in avanti, mi fa paura, paurissima, mi fa paurissima questa cosa, ma mi eccita la fantasia, mi stimola. Cioè vedere i due centrali, il centrale di difesa e i terzini essere praticamente allineati con Mignan spesso mi ha disturbato perché il Milan non sapeva più davvero come uscire, soprattutto nelle ripartenze, anche quelle semplici. E poi la qualità del gioco dice per me è importante il fulcro della sua fase offensiva e la spinta dei terzini. Sì, io le chiedo, caro Fonseca, se lei vede, visto che Emerson Royal ancora, non perché poi Emerson Royal fosse o sia un Theo Hernandez di destra, però mi chiedo se lei vede un Calabria nuovo, anche perché Calabria è stato il primo a fare gol nella sua gestione, un allenamento che non ha nessun valore statistico, però oggettivamente bisogna capire se c'è una rinascita anche di Calabria, mi suona strano, e soprattutto che ruolo avrà il capitano in questo progetto futuro. Il fatto è che il Milan deve tornare ambizioso, deve tornare ambizioso non solo in campo, ma anche fuori dal campo, perché noi ci scaldiamo, ci animiamo, commentiamo, ci arrabbiamo tra di noi, sbagliando, perché davvero bisogna adesso ambire tutti alla stessa meta. Però io ho notato che le litigate, tra virgolette, non sono litigi, però le discussioni tra di noi, quelle più importanti, sono tutte nate dalle diverse ambizioni che hanno le persone. Cioè io ho notato che, è vero in vent'anni abbiamo vinto poco e nulla, però ho notato che le ambizioni dei tifosi di oggi non sono le ambizioni dei tifosi di vent'anni fa. E allora c'è chi è un po' nostalgico, chi ha buona memoria, e io mi annovero tra questi, e dunque ho l'ambizione ancora di pensare di poter ambire alla Champions tutti gli anni, allo scudetto tutti gli anni, e c'è forse chi è meno ambizioso, forse solo più realista, magari avete ragione parte di voi, il Milan non è più ambizioso. Ecco, l'ambizione è una spinta fondamentale per poter guardare al futuro, non perché poi uno si debba sopravvalutare, perché poi sopravvalutarsi diventa anche abbastanza imbarazzante, perché quando non ci sono le condizioni inutili essere ambiziosi. Però in alcuni frangenti bisogna ritornare ad esserlo. Ecco, io voglio partire con questo campionato, mancano davvero pochi giorni, ritornando ad un'ambizione controllata, cioè voglio sperare che queste parole e queste ambizioni del mister abbiano un corpo, oltre che un'anima, un corpo e là. Vogliamo salutare? Vogliamo salutare, ragazza? Un saluto dalla direttrice che è accomodata. Va bene, vi lascio con queste parole, torniamo ambiziosi e proviamo a costruire qualcosa di importante, perché ormai dobbiamo fare i conti con questa realtà. Va bene, è tutto, ci vediamo più tardi, ciao ragazzi.